Presentato stamattina il tredicesimo rapporto alla Puglia in cifre dell'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. C'era per noi Cristina Ferrigni. 50.000 pugliesi nel 2009 hanno perso il posto di lavoro. La stessa contrazione si era verificata complessivamente nei cinque anni precedenti. E' uno dei dati più significativi del tredicesimo rapporto alla Puglia in cifre dell'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali presentato stamattina nell'Ateneo di Bari. E' certamente un dato molto preoccupante, soprattutto perché interessa quella componente del mercato del lavoro più debole, vale a dire le donne e i giovani, e si concentra in alcune aree territoriali. Abbiamo potuto accertare come il tasso di disoccupazione in Puglia tra le province sia più elevato in quella di Lecce. Significativo anche il capitolo della ricerca dedicato alla popolazione e società. In Puglia rispetto al passato si fanno meno figli, ma il numero delle nascite supera quello dei decessi, mentre dati sulla popolazione straniera confermano che la Puglia sta diventando sempre più terra di insediamento. Il saldo sociale della nostra regione, cioè la differenza tra immigrati ed emigrati, nel 2009 è risultato negativo a fronte di un saldo nazionale di più 318.000 unità. In linea generale la ricerca dell'IPRES, che ha visto coinvolti 298 comuni pugliesi, delinea il quadro di una regione che non è stata risparmiata dalla crisi economica generale e che auspica in un'azione migliore di programmazione e pianificazione urbanistica e comunale. Contrariamente alle aspettative, la crisi non ha tenuto il Mezzogiorno e la Puglia in una zona di protezione a causa della minore apertura internazionale della sua economia, ma ugualmente ha inciso, e anzi è inciso in modo più significativo, di quanto non sia accaduto nelle altre aree del paese in cui l'economia è più forte. Si conferma in crescita il traffico passeggeri negli scali aeroportuali pugliesi. Nei primi cinque mesi dell'anno a Bari, Brindisi e Foggia sono stati circa 1.750.000 a fronte di 1.400.000 circa dello stesso periodo del 2009 per un incremento complessivo del 24,4%. Al carrovoitila di Bari, in particolare, tra arrivi e partenze, il consuntivo si è attestato a un più 19,8%. Nel dettaglio, oltre 953.905 passeggeri che hanno viaggiato su linee nazionali, mentre sono circa 210.000 quelli su voli internazionali, per un aumento rispettivo del 22,3% e 15,2%. Pochi e contenuti dunque i riflessi delle cancellazioni provocate dalla nuve del vulcano islandese. Siamo alla pagina di Cultura e Spettacoli. È stato presentato alla libreria Feltinelli l'ultima opera della scrittrice Nicola Bozzella, Io mangio vegetariano. Ce ne parla Sabina Spilarli. Il vegetarismo come scelta di vita e di salute è un percorso personale che ha spinto l'autrice del libro ad illustrare come una fetta di carne si possa sostituire con una foglia di lattuga. Alla base della conversione di Nicola Bozzella, così come per tanti vegetariani, la necessità di avvalersi di un formidabile strumento di prevenzione delle malattie. Facendo le ricerche per scriverlo, ho scoperto che ci sono degli spunti interessanti per mantenere la nostra salute. In uno stato migliore, per invecchiare meglio e anche per rispettare il mondo che ci ospita. Viene illustrato dalla scrittrice un percorso di prevenzione che può diventare uno stile di vita basato sul rispetto e sull'armonia con il mondo. Tutto questo attraverso l'analisi del fabbisogno del corpo umano e del significato, anche simbolico ed energetico, del cibo. Io ho provato a vedere se era possibile scrivere un libro dove non arrivasse questa emozione, ma fosse un modo morbido di dire se io ti presento un sistema, se ti va è così. Se no puoi comunque rimanere onnivoro, magari rispettando un po' di più l'ambiente. Rosso rumore, questo è il titolo dello spettacolo portato in scena ieri sul palco del Teatro Forma da Gianfranco Groccia al suo debutto nelle vesti di regista. Un titolo che è tutto un programma esplicativo della volontà del regista di provare a rappresentare il suono attraverso i colori. La Pisa, ispirata ai lavori di Harold Pinter, Angelo Gaccione, Achille Campanile e Stefano Benni per l'adattamento di Dedi Rutigliano, si è articolata in sei atti diversi, con un omaggio conclusivo alla terra natia di Groccia, la Calabria. L'estate comincia in musica dal 10 al 13 giugno, quattro giorni di spettacoli e cultura. Nina Zilli, Emma, Noemi, Scanu, l'attesissimo D'Alessio, sono solo alcuni degli artisti che parteciperanno al prestigioso evento Costa dei Trulli Summer Festival, promosso dalla provincia di Bari e realizzato all'interno della Fiera del Levante. Sarà anche una vetrina per le band emergenti, che avranno a disposizione spazi dove potersi esibire, ma anche le aziende locali potranno farsi conoscere attraverso la degustazione di prodotti tipici pugliesi. Questa mattina, alla presenza del vicepresidente della provincia di Bari, Nuccio Altieri, è stato presentato in anteprima all'allestimento dell'evento. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, cielo sereno, temperature comprese tra 17 e 28 gradi, eventi moderati, mari poco mossi. Vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video.